Era l'uomo più carino e premuroso del mondo quando non mi picchiava. Così una donna di 72 anni si è espressa in tribunale davanti al giudice e al pubblico ministero. Imputato, l'uomo di 65 anni di cui si era innamorata dopo averlo conosciuto su Facebook. Il 65enne siciliano è accusato di stalking. Ieri in tribunale ha deposto anche il maresciallo dei carabinieri di Rivergaro Roberto Guasco che si occupò del caso. In due occasioni la donna l'estate scorsa fu accompagnata in ospedale. In base al suo racconto una volta l'uomo tentò anche di soffocarla con un cuscino. Diverse le minacce di morte esplicite. La donna aveva ritirato le querele dicendo di amarlo e che la loro era una storia travagliata. In tribunale ieri ha deposto anche l'imputato il quale ha ammesso le liti ma ha negato gli episodi di violenza. Il processo è stato quindi rinviato al 9 gennaio per la discussione finale.